La vitamina D è importante per l'assolimento del calcio in tutta l'età, specie se sei incinta. Le principali fonti alimentari di vitamina D sono i formaggi grassi, i pesci grassi, le uova, il fegato, il latte, il burro e anche l'olio di fegato di merluzzo. I livelli ematici di vitamina D però dipendono sì dalla dieta ma in modo molto più sostanziale dall'esposizione alla luce del sole. È sufficiente esporsi al sole per circa mezz'ora almeno tre volte alla settimana per ridurre i rischi di carenza. Durante la gravidanza la vitamina D è fondamentale per l'adeguata ossificazione dello scheletro del feto e livelli bassi di vitamina D sono stati associati alla presenza di alcune patologie della gravidanza così come problemi di fertilità. Grazie per la visione!